Buonasera a tutti e benvenuti, in dettaglio possiamo facere con l'appogno? Ferraro Alessandro? Assento. Bonfiglio Francesco? Presente. Cicirezza Silvia? Presente. Questi figli non vengono a lei? Presente 6, non abbiamo il numero legale, quindi siamo costretti a rinviare l'unora del Consiglio, ovvero rinunceremo alle 20.18. Buonasera a tutti e benvenuti. Ferraro Alessandro? Assento. Bonfiglio Francesco? Presente. Cicirezza Silvia? Presente. Prestibile Emanuele? Presente. Se presenti, quindi non essendoci il numero legale, rinviamo la seduta di questa sera a domani sera, l'unora 19. Buonasera a tutti e a domani. Grazie.